Perdendo 15-13 al tie-break è un po' difficile dire che per fortuna abbiamo mosso la classifica. Comunque è così, dopo tanto tempo arriva un punto in casa di Verona. Ma sì, sono comunque contento di quello che hanno fatto i ragazzi perché come qualità di gioco, considerando che non riusciamo ad allenarci più di tanto, che non abbiamo i centrali, che Gozzev ha giocato solo la partita dopo due settimane che era stato fermo, abbiamo fatto anche troppo. Il primo set ci siamo allenati, nella parte centrale della gara abbiamo giocato bene, abbiamo dominato. Nel quarto e nel quinto siamo un po' calati in attacco e complici due o tre decisioni arbitrali incredibili. Abbiamo perso i vantaggi tutti e due i set. Lì non c'è neanche da recriminare perché quest'anno ci siamo abituati, anche in casa, d'accordo a subire queste decisioni. Peccato perché i ragazzi meritavano veramente di raggiungere questa vittoria. Adesso nelle prossime due partite sarà sicuramente più difficile.